Ciao amici, il Natale è alle porte, ma arriva anche il rischio di ingrassare. Squaletto dice che poi è lui che non passa più dalla porta. Infatti, per evitare di rovinarsi le feste con chili di troppo e sensi di colpa, ecco 5 consigli bruciagrassi per goderci il Natale senza guassare la linea. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace e tanti nuovi video. E dopo il video andate a vedere la playlist con i miei video bruciagrassi, il link in descrizione. 1. Sport. A Natale è importante continuare a fare sport, soprattutto nei giorni hot, quando ci sono cenoni, pranzi e merende varie. Al mattino è meglio perché il corpo brucia più grassi e si consumano più calorie. 2. Bere acqua. Bere acqua aiuta a dimagrire, lo dimostrano diversi studi, poi aiuta a stare lontani da bibite gassate e alcolici, nemici della linea. Fate pure brindisi, ma durante i pasti bevete solo acqua naturale o tisane. 3. Mangia smart. Nei giorni prima e dopo le feste, mangiare light, ma nutriente, abbinando proteine magre e verdure, cotte e crude. Limitare ovviamente dolci, zuccheri e carboidrati raffinati. Sconsigliato il digiuno, altrimenti poi ci si abbuffa e si accumulano più calorie. 4. Porzioni. Cosa vuol dire? Durante pranzi e cenoni, occhio alle porzioni. Informatevi sul menu e decidete prima cosa e quanto mangiare, così avrete le idee chiare e salvare la linea sarà più facile. Consiglio, dei piatti più peccaminosi. Basta un assaggino, giusto? 5. Frutta secca. Ma io sapevo che fa ingrassare. Sì, se la mangi dopo il pasto. La frutta secca va usata come spuntino e spezza fame sia nei giorni di festa che durante la settimana, per evitare di arrivare con troppa fame e mangiarsi anche il piatto. Per affrontare le feste senza compromettere la linea, ho scritto un ebook. Trovate il link in descrizione, ve lo consiglio. E se volete altri consigli per dimagrire, iscrivetevi al canale. È facile, con un click così attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!